Giorgio Cauzzi, sindaco di Cavriana, negli studi di Temporadio per Filo Diretto. Buongiorno sindaco e bentornato. Grazie, buongiorno a tutti. Sorrido perché mi sto raffigurando la domanda che le farò alla fine. Va bene, allora noi invitiamo tutti gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione, il numero per mandare messaggi sms, messaggi telegram, il 348-3188-339, perché marci 0376-63-1709, e poi ancora ricordiamo la diretta streaming su Facebook, pagina Gazzettino Nuovo Temporadio, YouTube Temporadio Live. Allora, dunque, cominciamo subito col parlare di un evento che è mondiale. Mondiale, arriveranno dalla Colombia, arriveranno italiani, arriveranno stranieri, eccetera, eccetera, di tutte le parti del mondo, che è il Giro d'Italia, perché non sembra, ma noi stiamo parlando di un evento che è veramente mondiale. È più mondiale il Giro d'Italia dei mondiali di calcio, è tanto per intenderci. Eh sì, certamente, ma poi anche non dimentichiamo che abbiamo una tappa cronometro sul nostro territorio, quindi Castiglione, Solferino e Cavriana, per parlare dei comuni mantovani, hanno questa grande opportunità, no? La tappa cronometro vuol dire che abbiamo la possibilità anche di vedere i corridori uno alla volta passare, quindi non solo nei gruppi, perché non dimentichiamo che la tappa cronometro prevede all'inizio anche un passaggio per la verifica, diciamo, di quello che è il percorso e questo lo faranno in gruppo. Poi ci sarà anche un giro con le e-bike, quelle elettriche, anche questo è bello, insomma, da vedere, quindi sarà proprio tutta una giornata completa e poi finalmente arriveremo anche al passaggio dei ciclisti, uno alla volta proprio come tappa cronometro, ecco come dicevo. Quindi una bella opportunità per tutti i nostri territori, perché insomma è un'occasione di promozione turistica, di pubblicità. È chiaro, non mancheranno i disagi, perché chiaramente si tratta di chiudere dei tratti stradali molto importanti, perché immaginate partire da Castiglione, Solferino, poi da noi fa tutto San Cassiano, fino ad arrivare in centro paese. Dal centro paese si passa sotto l'arco, si va in via Pozzone e si va fino a Bande e poi oltre si prende per Pozzolengo, quindi sarà una chiusura pressoché totale dalle sette e mezza del mattino fino alle diciassette, diciotto del tardo pomeriggio. Quindi un po' di disagio però lo dovremmo sopportare. Lo dovremmo sopportare per il beneficio che porta, perché faremo davvero conoscere meglio Cavriana. In che giornata passa? Diciotto maggio, che è un sabato. Beh, quindi comunque si limita un attimino. Sì, si limita un attimino, ma certamente il disagio c'è proprio perché il tratto è molto lungo. Noi quel sabato, tra l'altro di solito il sabato mattina abbiamo il mercato e quel sabato non riusciremo a farlo perché anche spostandolo altrove è impensabile con la viabilità sistemata così. Ecco, chiaramente volevo dire che è anche impegnativo da parte del Comune, non solo da parte di chi lo ha organizzato. e stiamo cercando, come tutti gli altri comuni, stiamo cercando anche noi volontari, per cui chi dà la propria disponibilità, ma non è necessario dare la disponibilità tutta la giornata, basta anche qualche ora, gentilmente magari comunica con l'ufficio nagrafe del nostro Comune, dà la propria disponibilità, il proprio numero di cellulare, ci dice che disponibilità ha, così per gestire, perché dobbiamo pensare, metteremo tutte le transenne, faremo tutte le ordinanze di chiusura, però insomma magari sugli incroci è meglio sempre avere qualcuno. Quindi cercate volontari. Cerciamo volontari, ma senza dimenticare che chi fa il volontario ha la possibilità di vedersi il Giro in primo piano, perché sarà lì e quindi... È vero, verissimo. Sì, dica, dica. E volevo dire, collegato proprio al Giro d'Italia, abbiamo un evento importantissimo che si svolge questo venerdì, che è la visita del Ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli, che è il secondo anno che viene a Cavriana, direi anzi secondo anno consecutivo, perché lo scorso anno è venuta per l'inaugurazione della Fiera di San Biagio. Quest'anno verrà in Villa Mirra l'incontro alle ore 18, perché c'è un convegno importantissimo dedicato allo sport, ma dedicato allo sport come strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale. Quindi lo sport che cerca di fare inclusione sociale, anche di recupero, socializzazione per i gruppi a rischio e marginazione. E quindi credo che il Ministro Locatelli sia proprio la persona adatta per parlare di questo. non ci sarà solo lei, avremo anche qualche rappresentanza del Ciclo Club 77 di Guidizzolo, quindi ci saranno, e non solo loro, ci saranno degli atleti che normalmente partecipano anche alle Paralimpiadi, per cui ci porteranno la loro esperienza. Sarà un incontro, prometto, l'ho promesso a tutti, che sarà intenso ma anche breve, nel senso non vi mando a casa alle 8 o alle 9 di sera, quindi ci troviamo alle 18, vedrete che per le 19, 19 e 30 avremo già concluso, ma davvero vi invito a partecipare, è aperto a tutti. Certo, è bella la precisazione perché effettivamente tante volte, quando uno trova il microfono ne approfitto. Esatto, abbiamo cercato anche perché immaginiamo che il Ministro gira molto sul territorio in questo periodo e forse il venerdì sera a una certa ora ha anche piacere andare a casa, come è lecito e legittimo. Ma davvero io vi invito tutti perché guardate che il Ministro Locatelli è una persona davvero speciale, bisogna conoscerla e sentirla. Noi abbiamo sempre un aneddoto di quando è venuta a Cavriana per l'inaugurazione della Fiera di San Biagio, avevamo riservato uno spazio nel parcheggio e lei invece è arrivata con un'auto normalissima, ha parcheggiato in fondo che più in fondo non si poteva, spercia quasi nel campo, senza neanche dire, cioè veramente è una persona di una umanità incredibile. Per cui è questa una... Sì, è un pregio che quindi merita e merita anche per l'argomento perché avrà delle cose interessanti da dirci. A proposito di cose istituzionali, siamo in aprile, c'è il 25 aprile. Sì, è verissimo. Allora quest'anno l'associazione in collaborazione, il Comune con le associazioni d'arma e l'associazione militare in congedo, si sta cercando di organizzare un evento un attimino un po' più importante di quello che facciamo solitamente. Più importante intendiamo che vorremmo più partecipazione, l'evento è importante in sé. Però stiamo organizzando qualcosa anche con la partecipazione dei bimbi, dei ragazzi e dei loro genitori. È una cosa che stiamo organizzando da poco, quindi ben presto ci saranno le locandine, ma chiederei ai genitori e anche ai ragazzi che vogliono partecipare, dedicheremo qualche ora la mattina per ricordare i nostri caduti, ma soprattutto in un momento come questo per ricordare che le guerre sono sempre una cosa terribile e che tutti dovremmo lavorare insieme per cercare di risolvere i conflitti in modo diplomatico e non come spesso succede nel resto del mondo. Tra l'altro, senza dimenticare che proprio in questo periodo c'è il valore del 25 aprile, guardate quello che succede in Ucraina, guardate quello che succede in Palestina, poi non si parla perché sembra che non sia passato in modo quello che succede in Siria e in altre parti del mondo. Eh sì, ancora, per quanto riguarda, poi, voi avete partecipato a un bando o qualcosa del genere? Sì, abbiamo appena partecipato a un bando grazie agli uffici, l'ufficio Anagrafe, l'ufficio Segreteria, il finanziario che ci hanno lavorato tantissimo. è un progetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecco, ci sono arrivato, è un bando che si chiama Benessere in Comune, ma non inteso in municipio, noi ce lo diciamo sempre, no? È un bando per interventi che sono finalizzati a realizzare delle azioni orientate al benessere delle famiglie con figli minorenni di età compresa tra i 7 e i 14 anni. È un bando dove abbiamo un investimento, questo progetto che è stato fatto, di circa 13.500 euro, dei quali 9.000, se saremmo messi, arriveranno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e abbiamo un progetto interessante per questi ragazzi perché si tratterà di laboratori di teatro e noi abbiamo un'associazione teatrale molto importante, Cavriana, laboratori di manualità perché oggi i ragazzi sono molto abituati come manualità sul cellulare ma in realtà abbiamo bisogno anche di imparare un po' la manualità come si faceva un tempo. Ma non solo, guardiamo anche le tecnologie future per cui ci saranno anche corsi per l'utilizzo delle stampanti 3D che saranno probabilmente il futuro e corsi per esempio sulla fotografia digitale. Quindi abbraccieremo un po' delle cose a tutto campo proprio per i nostri ragazzi dai 7 ai 14 anni. Se questo bando andrà in porto, questo progetto andrà in porto, poi avremo un modo di parlarne. Pensate che non è solo una questione di moda, ci siano delle scarpe con per esempio la chiusura col velcro, ma perché si scopre che molti ragazzi intorno ai 14-15 anni non sanno ancora fare il fiocco, il fiocchetto ai lacci. E' vero, abbiamo perso manualità. La tecnologia ci dà tante possibilità, tante opportunità, ma ci fa perdere tante cose che una volta imparavamo. Avevamo l'arte dell'arrangiarsi una volta. Infatti, io le leggerò un messaggio per imbastire un discorso, poi dopo una domanda che dice Grazie Cauzzi, avete lavorato quasi bene, esclusi le scuole che non sono eccezionali, vi ricandidate o no? Allora, pensiamo alla prima parte della domanda. Facciamo un resoconto di quanto avete fatto in questi cinque anni, Sindaco? Sì, abbiamo lavorato, no ma rispondo, abbiamo lavorato quasi bene, si poteva fare meglio perché si può sempre fare meglio. Per fare meglio ci vuole anche la collaborazione di tutti, soprattutto di chi ha idee un pochino diverse, e soprattutto di chi ha idee critiche, e soprattutto perché ci sono le elezioni, e adesso è il momento di mettersi in campo per chi ha delle idee, magari anche diverse di quello che è stato fatto. Le scuole, secondo me, sono un bellissimo progetto che tiene conto non solo di una questione economica, per cui dal punto di vista termico, riscaldamento, dal punto di vista dell'elettricità, sono scuole che saranno energia quasi zero, come gli edifici che si fanno oggi. Tiene conto anche delle risorse economiche limitate che avevamo, perché questo è importantissimo, e non dimentichiamo l'aumento di costi che c'è stato, è stato un aggravio molto pesante. E poi tiene conto anche del benessere dei nostri ragazzi, per cui sono state studiate in funzione di quelle che sono le caratteristiche che devono avere gli edifici scolastici, in base alle esperienze fatte negli anni, compresa la possibilità di poter dividere le aule grandi in aule più piccole, in funzione di qualsiasi cosa possa accadere. E siamo, pian piano, stiamo lavorando, perché non dimentichiamo che è un lavoro grosso, perché alla fine della fiera, tra dentro, fuori, eccetera, stiamo parlando di un lavoro di 4 milioni di euro per un comune di 3.750 abitanti. La parte, diciamo, dell'involucro con tutti gli impianti, con tutte le parti interne, è pressoché ultimata, mancano le ultime finiture, e come avete visto stiamo lavorando sull'esterno, quindi si va avanti anche su quello. Tanto raccontava, mi pare, mi pare che ci sono anche dei pareti mobili, per cui si può fare l'aula grande e l'aula piccola. Esatto, proprio per avere questa possibilità. Oltre a una palestra adeguata per una scuola che è più grande di tutte le palestre che abbiamo nelle altre scuole. Cioè, pareti mobili, ma che isolano di più di quelle mobili fatte in carta di riso. Sì, sì, sicuramente. Sono pareti che possono essere allestite internamente e quindi che hanno una qualità di isolamento termo-acustico importante proprio per una scuola. Fermiamoci un attimino con Giorgio Cauzzi, sindaco di Cavriana. Ci troviamo tra un paio di minuti. In compagnia del primo cittadino di Cavriana, Giorgio Cauzzi, seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Allora, sì, un'opera molto particolare, una scuola anche molto moderna, diciamo. Sindaco, tra l'altro, sa che adesso c'è la tendenza del progetto Dada, praticamente si spostano gli alunni, non gli insegnanti. Certo, ma aggiungerei anche che l'abbiamo messa in una zona importantissima, dove abbiamo riqualificato un'intera area. Lì c'è stata un'idea veramente illuminata dall'assessore ai lavori pubblici, Paolo Cauzzi, quando lui per primo ha detto che c'era quest'area industriale di smessa, che era in asta, e che era il caso di acquistarla, ma proprio per riqualificare tutta una zona del territorio, per dare ampio respiro anche alla viabilità, perché noi abbiamo le scuole, con la vecchia concezione di allora, dove abbiamo difficoltà con la viabilità, dobbiamo bloccare tutte le strade ogni volta che entrano, escono i ragazzi. Invece qui c'è un'area di 28.000 metri quadrati, quindi non solo ci sta la scuola, ma c'è una disponibilità anche per il futuro, per la Cavriana del futuro. E sono stati investimenti davvero importanti. Le chiedono se è vero che avete cambiato il progetto sulla scuola. Il progetto sulla scuola, grosso modo, è rimasto quello. In fase di progetto definitivo esecutivo, ovviamente, sono state fatte delle migliorie. Allora, poi ancora, bello partecipare al Giro d'Italia, infatti il Giro d'Italia che passerà appunto per Cavriana, con... Certo. Bisogna dire, non so chi è De Zanna, comunque ditelo che è Cavriana, insomma. Eh sì, è certo, infatti. Allora, scusi sindaco, ma non si sente niente delle candidature? Eh, vabbè, questo gliele chiedo dopo, appunto. Perché non bisogna ascoltare, bisogna candidarsi, bisogna mettersi in campo, darsi da fare. Guardate che amministrare un territorio non è compito di poche persone, è un impegno che dobbiamo avere tutti. Anche chi non viene eletto deve poter fare la sua parte. Adesso ne abbiamo parlato prima, no? C'è un evento come quello del Giro d'Italia. Eh, chi davvero si sente cittadino di questa Italia, non solo di Cavriana, deve dare la sua disponibilità, eh, per una mezza giornata, ed essere presente. Questo aiutare il proprio territorio. Allora, eh, vabbè, dicono che dovete prendere in mano la situazione delle strade perché sono messe male. Ecco. Certo. Quelle comunali, sì, va bene. No, no, ma un po' tutte le strade. È chiaro che in questi anni abbiamo fatto tanti investimenti, noi abbiamo parlato della scuola, ma molti si sono dimenticati l'adeguamento sismico ed energetico della scuola d'infanzia. 650 mila euro, la stragrande maggioranza che arrivano da contributo, poi ce ne sono altre tantissime, il restauro della chiesa del cimitero, la sistemazione dei giardini, dell'entrata del cimitero comunale e tutte queste anche per la stragrande maggioranza con dei contributi e una parte i cofinanziamenti del comune. Ma ne dico solo alcune. Sì, sì, le dica, perché gliel'ho chiesto prima. La riqualificazione dell'illuminazione pubblica che è in direttura d'arrivo, 894 mila euro, abbiamo messo le lampade a led dappertutto, quindi ci aspettiamo anche un risparmio energetico per il futuro e anche qui l'investimento da parte del comune di Cavriana è stato poco meno di 50 mila euro. La riqualificazione dell'area ex cutter, la ex base Nato, i cui lavori sono in corso, diventerà una sede di protezione civile di prima emergenza, ma anche qui abbiamo recuperato un'area importantissima e di alta valenza paesaggistica perché siamo sulla cima di una collina. Il parco di Via Pieve che abbiamo appena ultimato con il parco giochi inclusivi, anche qui un contributo dal GAL e un contributo di Regione Lombardia. Regione Lombardia ci è stata vicinissima in questi anni e dopo ha una gestione dei contributi che, devo dirlo, rispetto allo Stato italiano è molto, ma molto più vicino ai comuni. e quindi, questo per dire, ne ho dette solo alcune, sono state tantissime, sono stati fatti tanti investimenti, ma era importante perché, guardate, che un giro di contributi, come c'è stato in questi anni, non lo avremo mai più, secondo me. E non dimentichiamo che in questi cinque anni, due, ce li siamo mangiati con il Covid. Le difficoltà ne abbiamo avute, perché poi la grandinata del luglio scorso, diciamolo, ci ha messo in grande difficoltà, perché anche gli edifici del Comune hanno avuto tanti danni. Quindi, non è facile, ma questo era per dire che avevamo degli investimenti, delle parti da cofinanziare nostre, alle quali abbiamo dato la priorità. Certo, per il futuro bisognerà fare ancora un po' di sacrifici, l'ho sempre detto, perché gli investimenti comunque hanno un costo, fare ancora un po' di sacrifici e bisognerà pensare un pochino alle strade. Certo. Dunque, vediamo. Elisa chiede se mettete i parcheggi a pagamento. Non so se in occasione del Giro d'Italia o in senso lato. Qua non è precisa, però... No, non è previsto, non sono previsti al momento parcheggi a pagamento né per il Giro d'Italia né in generale. Poi, ancora, vediamo un attimino. Dunque, lei merita di ricandidarsi perché lavora tanto in Comune ed è sempre disponibile, grazie. Faccio il possibile, potrei fare di meglio perché credo che nella vita possiamo sempre fare di meglio, però si cerca di fare il possibile. La cosa importante è che non è sufficiente avere un sindaco per amministrare un territorio. Il lavoro da fare è tanto e senza la squadra dietro di tutto ciò che è stato fatto avremmo fatto poco o nulla. Allora, Giorgio, sei l'unico che si dedica tanto al Comune con disponibilità anche fisica ed è, insomma, nel caso di ricandidarsi. Sì. Il cittadino che... Aggiungo, grazie. Grazie, aggiungo che abbiamo i consiglieri, gli assessori. Un messaggio uguale. Certo, abbiamo consiglieri e assessori che si danno da fare tanto. Abbiamo uffici che collaborano tantissimo. Se non c'è la piena collaborazione tra tutti non si riescono a fare tante cose. Scusi, sindaco, ma non si sente niente delle candidature a fare a meno del sindaco. Beh, vabbè, insomma, delle candidature eventualmente a primo cittadino. Vabbè. Sì. Allora, noi come amministrazione stiamo lavorando diciamo sul Comune più che sulla campagna elettorale. Questo probabilmente è un difetto nostro. Vi dico che qualche consigliere qualche assessore del gruppo anzi la maggior parte avrebbe voglia di continuare ad andare avanti. Quindi vedremo cosa verrà fuori nei prossimi giorni nelle prossime settimane. Certamente. Poi ci sono anche un sacco di eventi. Noi abbiamo parlato del Giro d'Italia ma ci sono anche un bel po' di cose. Sì, perché adesso comincia ad aprirsi la stagione e pian piano ve ne dico alcuni di quelli che mi ricordo. Poi andate sul sito del Comune sulla pagina Facebook del Comune ma anche sulle pagine Facebook delle varie associazioni e vedrete tutte le info. Per esempio noi il 3, 4, 5 maggio come l'anno scorso come l'anno prima avremo ancora l'evento dei cosplay che è un evento che è vero che non è aperto al pubblico però tutti hanno la possibilità di vedere questi ragazzi in costume che imitano magari quelli che erano i loro idoli quando erano ragazzini ma comunque rimane sempre un momento di promozione turistica del nostro territorio perché abbiamo cosplayer che vengono da ogni parte del mondo. E tra l'altro sindaco precisiamo una cosa per chi magari sono eventi che coinvolgono i più cinquantenni di ragazzini addirittura perché scopri che ci sono dei cinquanta sessantenni sono pazzi fanatici veramente in senso buono per Conan per Lupin Terzo e cose di questo tipo ma veramente persone che fanno i plastici non solo mettono una passione incredibile perché realizzano i loro costumi se li realizzano da soli quindi e ripeto quindi loro fanno i loro eventi perché che tipo di evento è diciamolo allora avremo questi cosplay e avremo dei fotografi quindi fotografi appassionati di fotografie di questo tipo e l'organizzazione di questo evento mette insieme proprio i cosplay con i fotografi ma dietro c'è lo sfondo di Cavriana dietro c'è lo sfondo del castello della torre del buco della lumaca di Villa Mirra quindi ecco che cosa è importante anche dal punto di vista della nostra comunità e poi ci sono altri eventi che sono in programma per esempio la Proloco propone per tre lunedì di seguito che sono il 27 maggio 3 giugno e 10 giugno i suoni delle colline quindi se andate sulla pagina facebook della Proloco vedrete la locandina con tutto quello che è l'evento la banda musicale di Cavriana che sta organizzando dei concerti l'associazione teatrale al Vultù anche loro ho visto hanno già prenotato degli spazi per proporre la loro commedia e stanno già lavorando per altre cose perché anche loro sono molto bravi e si danno tanto da fare quindi ci sono tanti eventi che pian piano arrivano e che si stanno programmando quindi sei l'unico in lista che si candidirà perché non c'è nessun altro dicono beh no anzi questo è assolutamente non vero perché io dico sempre è un messaggio sì sì no no ma per carità ma dico sempre no me lo dico come battuta dico sempre perché ci vuole una squadra dietro se c'è una squadra poi il candidato sindaco bene o male salta fuori se non c'è la squadra è inutile avere un candidato sindaco e quella lo spiegheremo magari con la festa successiva il 25 aprile il 2 giugno quella della repubblica cioè non è che uno possa fare il podestà esatto bravissimo bravissimo allora dai sindaco non fare il prezioso dillo che ti ricandidi perché lo meriti dai per favore dai per favore sembra un'innamorata dimmi 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 ma no ma io ho già spiegato nonostante la contrarietà di mia moglie giusta e legittima ho dato la disponibilità per essere all'interno della lista se il gruppo riterrà opportuno la mia presenza della lista per essere fuori dalla lista e vicino al gruppo se il gruppo riterrà opportuna la mia presenza però capite che in quello che sto dicendo tutto sta che ci siano le persone perché davvero ma guardate che c'è da lavorare tantissimo non è questione del sindaco o degli uffici o degli assessori e basta bisogna lavorare tantissimo tutti eh sì assolutamente è come tutte le cose ti impegni fai dei sacrifici può essere che ottieni dei risultati se non ti impegni non fai dei sacrifici i risultati non li hai assolutamente ma non solo come tutte le cose vederle da fuori sembrano facili poi dopo quando ti provi scopri di non essere capace il parco di Villa Mirra non ha di Villa Mirra ha ancora bisogno di manutenzione sì arriveremo anche lì perché abbiamo partecipato e ottenuto il il PNRR quello del bando borghistorici stiamo parlando di un milione seicentomila euro che non è solo legato dagli eventi di promozione turistica che in parte abbiamo già iniziato a fare ma è proprio legato anche alla sistemazione di alcune salette interne di Villa Mirra dove recupereremo gli affreschi un recupero della sala civica anche che aveva bisogno e anche qualcosa su quello che è il parco benissimo non l'ho vista al Ponte Gloria perché? non lo capisco no glielo dico io non mi ha visto alla manifestazione degli alpini secondo me a Goito a Goito devo dire molto onestamente a me Bersaglieri Bersaglieri sì esatto a me è sfuggita l'ho saputo ieri a me è sfuggita è sfuggito l'invito non l'ho visto ma lei è troppo alto per fare il bersagliere però un metro e setta e quattro può anche darsi ma sono sempre andato molto volentieri e ieri un amico mi ha fatto presente che domenica c'è stato proprio questa manifestazione alla quale vado pressoché a tutti gli anni e ci sono un pochino rimasto perché ho detto caspita non ho visto l'invito è sfuggito a me sicuramente mi hanno invitato ci succede vai chiediamo veniamo insomma viva Cavriana le scrivono ancora Cauzzi è vero che fa una lista con Tondini e poi ancora dicono anche non c'è solo il castello ma infatti ho parlato anche di Villa Mirra prima e di altro allora siamo in chiusura come salutiamo i suoi concittadini il sindaco ma allora devo dire noi abbiamo abbiamo alcuni eventi abbiamo detto che sono importanti il giro d'Italia il 25 aprile e poi le elezioni che non sono solo quelle comunali sono quelle europee io direi cerchiamo di essere tutti facciamo magari lo sforzo a volte è uno sforzo un sacrificio di essere tutti bravi cittadini perché lo siete i cavrianesi lo sono e quindi di essere un attimino un pochino più partecipi in questo momento quando qualcuno mi dice ma non sento voci riguardo alle elezioni comunali forse è perché c'è poca partecipazione allora ciascuno di noi dovrebbe dare il suo contributo se in occasione di questi eventi che abbiamo ci fosse davvero molta partecipazione probabilmente qualcuno si sentirebbe anche più preso più partecipe e darebbe magari anche la propria disponibilità per i prossimi 5 anni per amministrare il proprio territorio quindi diamoci da fare tutti insieme so che in tanti lo fate in tanti vi date da fare mi rivolgo soprattutto a quelli che magari fanno un pochino più fatica e magari in passato non l'hanno fatto siete sempre ben voluti e ben accolti certo e scrivono anche avanti tutto il sindaco Cauzzi avete amministrato bene meritate la riconferma allora siamo in chiusura noi ringraziamo il primo cittadino di Cavriana Giorgio Cauzzi grazie grazie e buona giornata